Le produzioni di elite della mia vigna fondamentalmente sono tutte e due di orcia vini in cui facciamo una raccolta meticolosa delle migliori uve o una maturazione fenologica importante e dove cerchiamo di estrarre in fermentazione, metodi anche molto semplici, ma insomma cerchiamo di estrarre un sapore più ricco, più intenso, più particolare. L'anzienda oltre a produrre vino, olio e tartufi fa anche un'attività di degustazione, principalmente mirata al mondo del tartufo perché siamo specializzati in quello, però facciamo assaggiare sempre tutti i nostri prodotti e ora proviamo anche l'esperienza dello spumante. Grazie Grazie Grazie